Nelle prossime ore il transito di un nucleo di aria fredda sul terreno meridionale determinerà instabilità atmosferica sulle regioni del centro nord. Nuovo fronte atlantico in avvicinamento dalla tarda serata di sabato con un minimo depressionario sul mar Ligure. Sabato 26 aprile in Toscana cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse o brevi temporali più frequenti e probabili sulle zone centro meridionali e a ridosso della dorsale appenninica. Dal tardo pomeriggio le precipitazioni tenderanno a isolarsi sulle zone più meridionali per esaurirsi del tutto in serata. Venti deboli, mari tra poco mossi e mossi, temperature minime in aumento, massime stazionarie o lieve calo. Sulla provincia di Lucca cielo nuvoloso, nella Piana temperatura minima prevista 11, massima 22 gradi. In Versilia minima 13, massima 18, in Garfagnana minima 10, massima 21 gradi.